Fedez lascia la tv? La mia è una semplice ed umile domanda Sembrerebbe di sì stando a quello che sarebbe riportato nel web di oggi Infatti pensate che questo famoso cantante avrebbe dato l'addio alla televisione italiana In particolare avrebbe detto Ho deciso di lasciare da parte tutto ciò che è televisione e di concentrarvi sulla mia musica Questa frase potrebbe essere tradotta con un dico addio alla X-Factor e alla tv italiana Probabilmente potrebbe essere l'ultima volta che Fedez sia giudice di X-Factor, il famoso talent show di Sky L'occasione per la rivelazione sarebbe il lancio del nuovo disco intitolato Paranoia Airlines Le dichiarazioni lasciate a News Mediaset avrebbero creato un certo clamore E avrebbero avuto già un eco a livello mediatico Addio o no alla tv Fedez cerca di spiegarci a tutti noi, i tuoi fan accaniti Se questa scelta effettivamente andrà a essere considerata come vera Oppure se effettivamente questa scelta non è, diciamo così, una scelta consapevole Che effettivamente tu vuoi andare a prendere Mi raccomando quindi non tenerci, diciamo così, con il fiato sospeso Ma facci sapere, informaci di una tua scelta che eventualmente verrà presa Senza avere la difficoltà di informare, ripeto, il tuo amato pubblico I tuoi fan, i tuoi ammiratori, i tuoi seguaci Quello insomma che ti vogliono un buono di bene Bene, questo è quanto Un caro saluto a voi tutti Iscrivetevi se vi va, commentate Se in questo video fossero presenti delle inesatezze me ne scuso Ma ho utilizzato in modo condizionale Pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di natura civile e o penale